Siamo qui con Giovanni Iannuzzo che ha presentato il suo ben sedicesimo libro che si chiama Terra di Mezzo. Iannuzzo è un noto psichiatra e appunto da anni ormai vive sia come mestiere e non solo questa dimensione appunto dello sguardo rivolto al sociale. Ovviamente perché Terra di Mezzo? Perché in realtà non si tratta di un libro che parla di psichiatria in senso clinico. Oggi stiamo assistendo a un fenomeno che è molto strano e cioè che le categorie che avevamo una volta di salute mentale o di malattia sono molto cambiate, anche perché è cambiata la società, è cambiato il contesto. Per cui mentre una volta c'era un confine che era molto ben distinto tra ciò che è normale e ciò che è patologico, oggi la situazione è molto diversa. Esiste veramente questa Terra di Mezzo dove non sappiamo se esiste un confine reale tra la patologia e la normalità. E questo sicuramente è un fatto che è pericolosissimo nel senso che non riusciamo più a distinguere con chiarezza dove esiste ciò che è la comune norma quotidiana e dove invece comincia la patologia. Ci sono dei segni per esempio riconoscibili, ovviamente con uno sguardo da tecnico per poter meglio individuare questo stato che non è più normale. Con uno sguardo da tecnico che è particolarmente attento sì. Il problema secondo me è che noi non ce ne accorgiamo. C'è tutta una serie di fenomeni nuovi che sono intervenuti, che ti voglio dire, dall'informatica all'uso smodato di internet, alle nuove forme di comunicazione, a quello anche che ci succede attorno quotidianamente, è molto difficile per chi non è un tecnico che peraltro sia esperto di queste cose, abbia un'esperienza diretta, stare a distinguere cos'è giusto e cos'è sbagliato. Non voglio usare un termine etico, ma ciò che è normale è ciò che è patologico. Pensa per esempio, ripeto, all'uso smodato di internet, all'uso sbagliato di internet. Tutti abbiamo internet ormai, voglio dire, è una cosa assolutamente... Ad esempio per i ragazzi che lo usano tantissimo rispetto a noi, diciamo, un po' più adulti, è possibile anche che loro stessi magari non si rendano conto, anche un genitore, magari più che il ragazzo o il genitore non capisce quale sia il limite? Non è che è possibile, è certo. Uno dei grossi problemi, per esempio, che si stanno verificando in questi anni, è proprio non solo l'abuso di internet, ma il fatto che i ragazzi non ne sono assolutamente consapevoli, e nemmeno i genitori. Per loro è normale, lo fanno tutti, lo fa pure un figlio. La verità vera è che poi le conseguenze sono disastrose sul piano psicologico. Appunto, quali possono essere i risvolti, i danni? Allora, distinguerei tra bambini e adulti. Nel caso dei bambini sicuramente il danno è cognitivo, nel senso che questi bambini non sono più abituati a leggere, non sono più abituati a studiare, basta mettersi su Google, se devi fare una ricerca la fai, oppure stai ore e ore ai videogiochi. Per i genitori, d'altra parte, è anche una cosa molto comoda, perché insomma sono posteggiati per bene. Per gli adulti il rischio è ancora maggiore però, anche perché mentre questa nuova generazione digitale è nata con internet, per gli adulti il problema è diverso. Soprattutto il problema del gioco patologico, dell'immersione nelle comunicazioni via chat, dei giochi di ruolo particolari nei quali poi le persone si immedesimano pensando di essere grandi eroi o grandi condottieri e pagando cifre straordinarie per poter mantenere questo rischio. Quindi il rischio non è solo per i giovani ma anche per noi adulti che ci avviciniamo a questo nuovo mondo? Sì, assolutamente sì. Specialmente, devo dire, per gli adulti. Nel senso che in fondo per i ragazzi, per gli adolescenti è un fenomeno che è nato con loro. Per gli adulti, diventa molto più pericoloso perché scoprono una dimensione che prima non esisteva. Se facciamo un paragone tra ore e vent'anni fa, veramente è un universo che è completamente diverso. Ma non è solo questo, è anche tutta una serie di altri disturbi apparentemente inavvertiti. Quali sono quelli più frequenti che tu riscontri? Ma oggi succede qualcosa che è molto strano, che ho visto cambiare nel corso degli anni. Mentre una volta riuscivamo a distinguere francamente qual è la patologia dalla normalità, oggi non è più così. Io vedo spessissimo persone che in realtà non hanno una diagnosi precisa, hanno quello che Freud chiamava il male dell'esistenza. Stanno male ma neanche loro sanno perché. Perché cambiando il mondo, cambiando la società, probabilmente il nostro cervello non si è adattato. E comunque sia c'è stato un cambiamento proprio nel modo di sentirsi male di fronte a certi fenomeni. Tu che hai ovviamente un'esperienza ventennale, insomma sicuramente è di più, riscontri delle diversità in questo senso? Cioè appunto il malessere è peggiorato o no rispetto a prima? Il malessere secondo me è peggiorato perché è molto più sottile, è molto più subdolo. Se una volta tu vedevi una persona con una crisi d'ansia, la riuscivi ad identificare. Oggi no, c'è un malessere diffuso, sottile, che gli stessi pazienti spesso non riescono ad identificare. Ti dicono io sto male, ma perché sto male, che sintomi ha? È proprio un male di vivere che è diffusissimo e non ci rendiamo conto poi da dove deriva. Questo libro è un libro, diciamo, dedicato agli addetti ai lavori o accessibile, insomma a tutti, magari chi ha interesse per questo tipo di letterature, diciamo così, può avvicinarsi tranquillamente a questo libro? Ma guarda, questo libro è stato scritto per i non addetti ai lavori, cioè per la gente media, per la gente normale, comune, che vuole capire qualcosa di quello che ci sono che ci sta accadendo intorno. Non è affatto un libro tecnico, è un libro sicuramente rivolto anche a insegnanti, a genitori, insomma, a persone che abbiano un interesse sia diretto sia indiretto verso queste problematiche. Perché il grosso problema, infatti il sottotitolo è Psichiatria della vita quotidiana, è proprio un tentativo di entrare all'interno del quotidiano. perché è all'interno del quotidiano che si vivono questi fenomeni che stanno rappresentando una nuova patologia, cioè il futuro della Psichiatria sarà quello di confrontarsi con queste nuove patologie, attualmente inapparenti, inapparenti però esistenti. Quindi proprio da tecnico secondo te i tempi peggioreranno? E purtroppo sì, anche perché è cambiata la società. Il grosso problema è che noi viviamo in una società che è estremamente centrata sui consumi, sull'avere molto più che sull'essere. Per cui è chiaro che è una situazione che non si potrà risolvere in pochi anni. Occorre, io credo, un cambiamento di prospettiva. In fondo la funzione fondamentale di questo libro, quando l'ho pensato, è stata proprio quella di rendere le persone più consapevoli. Voglio dire, state attenti che il mondo è cambiato. Noi dobbiamo tentare di modificare certe regole e di far fronte a queste nuove emergenze. La metafora fondamentale del libro infatti è quella del muro. C'è questo muro che separa normalità e patologia, ma è un muro che è sempre più difficile da vigilare. Bene, allora grazie e aspettiamo il diciassettesimo a questo punto. Ti ringrazio dell'augurio. Grazie a te.